Ben trovati con lo spazio a cura di meteocalabria.net. Persistono condizioni di tempo freddo e ventoso ma senza precipitazioni associate. Temperature in media. Giovedì 13. In genere sereno, salvo un po' di nuvolosità sulla bassa Calabria ma senza alcun tipo di fenomeno. Venti tessi di tramontana su Cosentino e Crotonese. Medio, basso Ionio, molto mosso. Mosso il Tirreno. Temperature minime in ulteriore calo. Massime stazionarie. Pochi cambiamenti per venerdì 14 gennaio eccetto un'attenuazione del vento che dovrebbe disporsi ai quadranti nord-occidentali. Bene, per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione. Appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per la visione.